Inaugurazione dell'impianto fotovoltaico a 20 kW per l'approvvigionamento energetico dell'impianto di selezione Pasquinelli. Sindaco, lei ha esordito proprio al momento dell'inaugurazione con questa espressione, l'impianto si accende e la terra festeggia. Ma assolutamente, questi sono i primi 20 kW di capacità sul tetto di questo grande impianto di Pasquinelli gestito da Chimambiente. Ad agosto sarà pronto un altro filare di pannelli solari per quasi 15 kW, insomma a regime il 50% di bolletta meno cara anche per Chimambiente è veramente un fiore all'occhiello anche tecnologico. Chimambiente sta lavorando nella direzione che gli abbiamo assegnato con il nostro piano di transizione, insomma spero sia una buona pratica che presto riusciremo a replicare su larga scala in tutti gli uffici comunali. Grazie a tutti! Grazie a tutti!